Ciao a tutti ragazzi, io sono Panglerita Gamer e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere come aggiungere la scatola delle sorprese su MySiggyMonster's Composer, grazie ad Apk Editor. Intanto funziona. Ecco, ora vi dirò come fare. Allora, intanto andate su Apk Editor. Scusate, aspetta, stavo dicendo. Voi andate su Apk Editor. Intanto prima vi installate Apk Editor e poi MySiggyMonster's Composer. Ovviamente su ApkMod. Cliccate App, poi Composer se lo trovate. Ecco qua. Ecco, c'è scritto Edit Mode e poi premete Simple Edit. Qua vi troveranno tutti i file di MySiggyMonster's Composer. Per riprazzare l'immagine, l'icona di TipTap Raro, come vedete, vedrete, avrà l'immagine della scatola delle sorprese. Ecco. Praticamente c'era l'immagine di TipTap Raro. Voi cliccate qui. Aspettate che l'altro... Ecco, aspettate. Ok, cliccate Selecta File. Ovviamente installate l'immagine di Kona su... di V-Box. Oppure scatola delle sorprese che ho chiamato io. Ed eccola qui. E poi la cliccate e l'avrete già rimpiazzata. Per quanto riguarda il suono... Vi dovrebbe comparire C-Rare. Che sarebbe qua TipTap Raro. Però come ho fatto ad aggiungere i suoni di V-Box... della scatola delle sorprese, scusate. Ve lo spiego io. Voi andate qua. Nei suoni di memoria. Vedete F-Memory che sarebbe quello della scatola delle sorprese. Voi cliccate l'icona del salvataggio. Questa. Poi seleziona una cartella a caso tipo... You should go download. Poi premete OK e sarà salvata. Andate sui suoni di TipTap Raro. Pure per il gioco di memoria lo potete rimpiazzare se volete. Ok, scusate. Vedete qua C-Rare. Ok. Quando ci sarà il suono di TipTap Raro... Cliccate sempre qui. E poi troverete il file... Il gioco di memoria di V-Box. Qua F-Memory.gg. Poi di qua vi darà Save. E vi darà Save. Poi quando si installerà dovete cancellare... MySiggy Monsters Composer originale puoi installare uno nuovo. E così avete la scatola delle sorprese su Composer. Ovviamente se avete anche altri mostri installati da altre parti tipo... Mi sono ronte. Oppure non lo so che tipo... Uno ha percussione. Tipo Bitorzo Rospo. Che non è percussione vocale ovviamente. Pure Gluglucca. Oh yeah yeah. La risata. Non potete perché loro appartengono a Composer. Quindi se provate a rimpiazzare il suono di quel mostro tipo con Mammoth... L'esempio vi farà crashare. Cliccate qui. Cliccate tipo... Fate il verso di yeah yeah yeah. Yeah yeah. E poi rimpiazzate il suo suono con Mammoth. Però se cliccate Mammoth ovviamente vi farà crashare. Può essere in modo più semplice per rimpiazzare i mostri di Composer. Va bene? Bello è sempre lo stesso. Guardate. Noi ci vediamo in un prossimo video. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Ciao a tutti.